i clips che ha sfondato tutti io vado a presentare anche se non dovrei presentarli qualcuno già sta a chi? no purtroppo mi ha appena suonato il telefono non ha la voce perciò stasera non ci sta purtroppo è in sala giochi bravo ottima idea ehi 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 l'azzurro eccolo eccolo yeah 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 positive river mi è piaciuto l'enclips o no? l'enclips vai manzo pompami un po' questo qua azzurro che parto da questo mega i è carico il positive river è carico no è carico no la di la cala e la b dj t rob su una console di t rob è carico no azzurro Grazie a tutti. 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 DJ Tiro... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fatemi... per... ... 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti